ciao a tutti i 750 fan della nostra pagina di facebook anzi più di 750 e viva ciao a tutti i compositori che hanno partecipato al call for scores ciao a tutti voi che vedete questo video la selezione dei brani è finita è stata una selezione dura ardua estenuante come potete anche leggere sulle nostre facce non siamo proprio visini freschi e vi invito vi invitiamo tutti 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 sabato 17 marzo alle ore 17 al mamu magazzino musica di milano in via suave 3 per l'evento conclusivo del nostro call for scores alle 17 il workshop dei compositori dove presenteranno loro stessi i loro lavori dove avrete anche la possibilità di forgli delle domande gli stessi qualora insomma ne abbiate e alle 19 30 con il concerto conclusivo dove suoniamo noi e adesso la nostra selezione è solo la nostra selezione ciao 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 io Sous-titrage MFP. ... 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